L'uscente L'uscente L'ex vice sindaco Angela D'Alto In campo sotto il simbolo di Monte San Giacomo Futura D'Alto sindaco A Padula cambio certo nell'ufficio del sindaco Visto il doppio mandato concluso per Paolo Imparato A contendersi la guida del comune scendono in campo Come annunciato Michela Cimino Ex vice sindaco in rotta con la maggioranza Che corre con la lista Padula vota chi ti ascolta Cimino sindaco E che dovrà vedersela con Dario Mario Tepedino Con la lista Padula visione comune Tepedino sindaco Due le liste presentate anche a Montesano Sulla Marcellana con la novità assoluta E non ipotizzata Della discesa in campo di Rosa Domenica Campiglia Che appoggiata dalla lista Che corre sotto il simbolo E il nome di Uniti per Montesano Contenderà la fascia tricolore All'uscente Giuseppe Rinaldi In campo per il secondo mandato Con la lista Nuova Montesano Sfide importanti al Cardiopalma Quindi in tre dei quattro comuni valdianesi al voto Ben diversa la situazione a Teggiano Dove i candidati dell'unica lista in campo Avranno il compito comunque di convincere i cittadini A sostenerli Per evitare i rischi di mancato quorum Che potrebbe invalidare le elezioni